Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi il monumento all'indifferenza lo faccio così. Io vorrei capire che problemi hanno coloro che portano a spasso il cane, raccolgono la merda, come vedete la merda del cane lì, e poi lasciano il sacchettino in giro. Ecco, io vorrei sapere chi ha dimenticato questo sacchetto di merda del proprio cane. Oggi il monumento all'indifferenza lo facciamo così.